Nervi tesi dopo Milan-Torino. Nervi tesi dovuti al fatto che in questa squadra c'è un vero leader a cui adesso aprirò un hashtag per far sì che la fascia di capitano tocchi a lui direttamente. Tribu Rossa Nera, amici del Marietto, ma soprattutto amiche, bentornati, bentornate all'appuntamento quotidiano con il vostro Marietto milanista oggi dal Parc de Poblenou, vicinissimo proprio anche alla spiaggia che vedete lì nel fondo di Bogatel. Allora, non tutti i giocatori sappiamo che diventano dei leader, diventano dei veri capitani, diventano le anime di alcune squadre, le bandiere. Un tempo era molto più facile anche perché adesso il football business non permette a giocatori di rimanere una carriera intera, a parte rare ed eccezioni casi, di alcuni giocatori in una stessa squadra per il resto dei suoi giorni e magari finire anche nei tavoli dirigenziali. Nel passato noi abbiamo avuto chiaramente l'esperienza di Rivera, di Baresi, di Maldini, ma anche l'Inter dal loro lato avevano avuto i Facchetti, avevano avuto i Mazzola, hanno avuto il Javier Zanetti ultimamente, quindi è veramente molto difficile che si trovino questo tipo di figure. Però ci sono anche giocatori che attraverso del loro carisma, attraverso veramente del loro essere leader, avere una leadership importante all'interno di un gruppo, diventano come delle bandiere, che magari uno può dire cambia bandiera di qua di là, però in questo caso sapete di chi sto parlando? Sto parlando di Zlatan, Supremacy, Ibracadabra, Ibrahimovic. Quello che è successo, però arriviamo un po' ai fatti, perché quello che è successo dopo Milan-Torino mi ha fatto riflettere sul fatto che realmente noi abbiamo un vero capitano in squadra senza fascia. Dopo Milan-Torino, boci di corridoio e non solo, confermate anche da Pioli, Zlatan ha preso e se n'è andato incazzato nero, lasciando tutti quanti, prendendo la sua macchina dopo la doccia, non ha voluto rilasciare interviste, niente, se n'è andato correndo. Incazzato perché con il gruppo e con se stesso, innanzitutto sapete che lui è un perfezionista, è uno che non è che gli passano le cose così facilmente, lui è uno che si allena, come diceva Castiglieco, dalle sette e mezza di mattina a Milanello ed è l'ultimo ad andarsene, un vero leader e questo già la dice tutta. Però se n'è andato perché era molto incazzato con il gruppo per il semplice fatto che non si era chiusa prima la partita e stavamo rischiando di fare la stessa frittata come nel derby e poi successivamente con la Juve. Chiaramente lui non ha accettato questa situazione della sconfitta del derby dopo che eravamo in vantaggio 2-0 e allo stesso tempo non ha accettato il pareggio finale, chiaramente come tutti sappiamo come è arrivato da parte della Juve e in più ha monito che non potrà neanche dare il suo contributo per il ritorno alla causa contro la Juve. Quindi in questo caso cosa fa capire questo personaggio? Fa capire quello che ha rilasciato poi in un'intervista a un quotidiano importante italiano giusto ieri quando gli facevano la domanda sul che differenza c'è tra Inter e Milan e lui rispose che la differenza sta nel fatto che quando è andato all'Inter era molto più giovane, veniva da una situazione dove la Juve era retrocessa per Calciopoli in Serie B, lui era giovane, voleva giocare e l'Inter è stata quella che sicuramente aveva fatto la miglior proposta con i migliori giocatori per far sì che lui potesse ulteriormente migliorare. Però quando poi se ne andò al Barcellona e ha saputo dell'interesse del Milan dice che è stato stesso lui a spingere al suo agente Mino Raiola per far sì che potesse tornare a Milano perché Milano come sempre lui ha detto è la sua seconda casa, ha trovato veramente il luogo dove poter mettere radici. E quando ci fu questa proposta in cui Galliani seppe tirar fuori dal cilindro magico l'offerta adeguata e giusta per Ibra, Ibra non se ne è pensato due volte e se ne è venuto subito al Milan. È stato come un amore a prima vista. Dopo i due anni che è stato da noi al Milan in cui ha vinto uno scudetto, una supercoppa italiana, proprio contro l'Inter a Pechino se non sbaglio, due a uno che segnò anche di testa. Zlatan si trova in una condizione in cui l'avevano messo con le spalle al muro che aveva appena venduto Tiago Silva e Berlusconi vendette anche lui come diceva mal in cuore. Zlatan se ne andò arrabbiatissimo secondo l'intervista che aveva detto perché lui sarebbe rimasto al Milan perennemente, per quello che si era capito era come se fosse arrivato al suo punto più alto arrivando al Milan, abbracciando i colori del Milan, innamorandosi di questi colori. Tanto che dice non me lo sono dovuto pensare realmente tanto. Adesso, sì è vero, dopo l'Atalanta c'era stata comunque un'accelerazione dopo il 5-0 per venire subito al Milan. Però la verità è che già l'avevano detto anche tempo prima. Mesi prima il presidente della MLS americana già aveva dato l'accordo di Ibrahimovic al Milan, però mancavano solo dei dettagli per far sì che questo potesse andare in porto. E l'accelerazione è arrivata appunto dopo quella debacle impressionante che abbiamo avuto prima di Natale con l'Atalanta. E lui quindi ha accettato subito questa offerta e vi dirò di più, non finirà quest'anno perché lui l'intenzione è che continui anche l'anno prossimo. Per quello che è così puntiglioso anche nei suoi allenamenti, nell'essere così puntuale. E quindi quando gli si faceva questa domanda della differenza tra Inter e Milan, a un certo punto lui tira fuori dal suo scrigno magico delle sue grandi affermazioni, dice ma io sto giocando nell'unica vera squadra di Milano che è il Milan. Che si unisce alle rivelazioni fatte anche dopo il derby quando gli avevano chiesto ma questo Inter è da scudetto dice per il secondo posto la vedo una buona pretendente. Cioè risposte alla Zlatan. Non gli vogliamo fare un monumento a sto ragazzo? L'hanno buttato giù a Malmo? Facciamone uno vicino a casa Milano e mettiamogli una sciarpa perenne perché io veramente già gli farei il coro come si faceva con Donadoni. Farei Ibrahimoviće, Ibrahimovićo, Ibrahimoviće per sempre rosso nero perché è arrivato un punto che ormai ha abbracciato completamente. Noi tifosi lo sappiamo, chi è milanista lo sa, lo percepisce. Zlatan è innamorato del Milan e quindi qua arriva la fase finale di questo video. Io aprirei un hashtag se voi siete d'accordo per far sì che Zlatan diventi il capitano con fascia di capitano del Milan. non me ne voglio a Romagnoli, però in un gruppo il vero capitano è colui che veramente è il leader dello spogliatoio e l'unico vero leader che abbiamo nel Milan in questo momento è Zlatan Ibrahimović e vederlo in campo senza fascia di capitano quando invece la vedo addosso a Romagnoli con tutto il rispetto per gli anni, la militanza che ho avuto in questi anni al Milan. Però Zlatan è sempre rimasto nel Milan e nei nostri cuori. Non c'è mai stato un giocatore che abbiamo voluto così tanto veramente nel Milan in questi anni e adesso probabilmente potrà ricongiungersi un'altra volta con l'altro amico Tiago Silva. Io me lo auguro perché comunque ho sempre detto che nel Milan abbiamo bisogno, da quando c'è stato lo smantellamento nel 2011, quello che è mancato veramente nello spogliatoio è stato una serie di senatori, di leader come c'erano prima che facessero che anche i giovani poi entrassero nella mentalità Milan e capissero realmente l'importanza di questo club. E Zlatan è arrivato come un toccasana per tutti noi. Quindi ragazzi, Zlatan capitano, questo è il mio messaggio a tutti. Se vi piace mettetegli un like, iscrivetevi al mio canale con campanellina accesa per rimanere sempre aggiornati sull'entrata di ogni mio nuovo video e dal parco de Poblenou, vicino alla spiaggia di Bogatel, dal vostro marietto milanista con tutto il mio cuore sempre rosso-nero, sempre Forza Milan, ovunque e comunque ci vediamo questa sera al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao!